Eccoci, buonasera. Il telegiornale di questa sera sarà fatto di molte notizie sulla guerra, sulla diplomazia, ma anche su molti altri fatti italiani e internazionali, soprattutto italiani. Diciamolo subito, c'è quella bruttissima vicenda delle centinaia di casi di molestie durante il raduno nazionale degli alpini a Rimini nello scorso fine settimana. Fatti gravissimi, ha detto il ministro della difesa Guerini. C'è la vicenda che riguarda l'andrangheta a Roma, una fortissima azione della magistratura e delle forze dell'ordine che ha portato a arresti, a sequestri e a scoperchiare soprattutto la presenza di una superndrina organizzata nella capitale che faceva affari praticamente nella gran parte dei settori, soprattutto quello della ristorazione che come si sa serve anche per fare da lavanderia, per riciclare il danaro sporco. Ma vedremo anche delle vicende che ci avvicinano alla guerra. Il caso Petrocelli, la figura incredibile di quel Presidente della Commissione esteri del Senato eletto nei Cinque Stelle che è diventato una sorta di quinta colonna putiniana all'interno del Senato e che non ha voluto dimettersi dalla Presidenza della Commissione nonostante per farlo decadere si siano dimessi tutti gli altri membri della Commissione stessa a cominciare dai Cinque Stelle. Ebbene si procederà di fatto in maniera totale nei suoi confronti sciogliendo la Commissione e riedificandola ex novo per toglierlo perché lui è rimasto attaccato alla poltrona come si dice in questi casi. Poi a salire c'è l'incontro alla Casa Bianca che è in corso di Biden e con il nostro Premier Draghi. Non so se avremo nel corso del telegiornale la possibilità di seguirne gli esiti. Difficile visto che è iniziato da poco e non dovrebbe durare pochi minuti ovviamente. E poi la guerra per quello che riguarda l'azione sul campo dove prosegue il bombardamento di Azovtal a Mariupol ma senza che ci siano reali fatti nuovi e con la suggestione che ci stiano ancora i civili in realtà all'interno dell'acciaieria insieme a almeno mille combattenti, mille militari. Però anche dal punto di vista diplomatico e dello scontro delle parole perché Lukashenko, il capo della Bielorussia che si trova a nord dell'Ucraina ha praticamente mobilitato forze ingenti alla frontiera contro il pericolo dice lui di un'azione da sud favorita dalle armi della Nato. Si estende il conflitto? Quello che è certo è che secondo la capa dell'intelligence americana l'obiettivo vero di Putin è davvero arrivare fino alla Transnistria quindi avanzare nel sud del territorio dell'Ucraina. Ma soprattutto, e sarà il nostro primo titolo, c'è la vicenda che riguarda l'Europa. Quelle sanzioni sul gas e sul petrolio che ancora non si riescono a far quadrare perché le nazioni dell'est dell'Unione Europea come si sa si sono messe di traverso essendo quelle che praticamente dipendono quasi totalmente dall'approvvigionamento energetico russo. E allora è difficile, tanto più che la notizia dell'ultima ora da parte dell'Ucraina si dice non possiamo più far veicolare le forniture di gas nel gasdotto perché praticamente tutto viene interrotto dalla presenza delle forze di occupazione. Da domani forse la partita sarà ancora più difficile anche da questo punto di vista. Il conflitto che in questo momento appare in una situazione di stallo sul campo rischia di espandersi. La Bielorussia sta ammassando truppe ai confini con l'Ucraina mentre Putin non avrebbe intenzione di fermarsi nel Donbass. Secondo l'intelligence statunitense Mosca vorrebbe portare la guerra in Transnistria missili su Odessa, i servizi dei nostri inviati sulla controoffensiva e c'è anche, come avete visto nel titolo, l'aggravante del gas che potrebbe fermarsi, appunto, non poter transitare più dall'Ucraina verso l'Europa. Il Presidente del Consiglio Draghi a Washington sta incontrando il Presidente degli Stati Uniti Biden a Casa Bianca al centro del colloquio e il sostegno dei due paesi a Chievo ovviamente nel corso del conflitto arrivato al 76esimo giorno ma anche in nodo delle sanzioni e degli approvvigionamenti. Vedremo. La Presidente del Senato, Casellati, ha sciolto la commissione esteri guidata da Vito Petrocelli. La decisione, dopo il parere favorevole della giunta per il regolamento di Palazzo Madama, entro venerdì i gruppi indicheranno i nuovi componenti. La considero una farsa e una vendetta politica di parlamentari che io considero pericolosamente schierati sul fronte della guerra, ha commentato Petrocelli. Sono pronte a presentare una querela contro i gnoti alle forze dell'ordine molte tra le centinaia di vittime delle molestie sessuali ricevute lo scorso fine settimana a Rimini in occasione della donata degli Alpini. Comportamenti definiti gravissimi dal Ministro della Difesa Guerini che annuncia tolleranza zero a fronte di molestie che non hanno giustificazione. Con una grossa operazione della direzione investigativa antimafia è stata smantellata una super-ndrina dell'andrangheta evidentemente attiva a Roma. 77 misure cautelari. L'organizzazione era finalizzata a acquisire la gestione e controllo di attività economiche in tantissimi settori, sequestrate come vedremo svariate diverse attività commerciali nella capitale. Buonasera, sono tante le notizie importanti come avete sentito un po' da tutti i settori della guerra e con effetti collaterali della diplomazia e del settore economico e commerciale perché oggi in questo 76esimo giorno di guerra ci sono molte cose da raccontare. Partiamo dal campo. Eccole le immagini della notte più dura di Azovstall assediata dalle forze russe in attesa di altri attacchi pianificati come accade da settimane per le prime ore della sera ucraina. Dal cielo, da mare, da terra, con razzi, colpi di cannone e forze speciali tra cui spesso i miliziani ceceni di Kadirov. Ecco i volti di sette militari ucraini di Azov fotografati nelle viscere dell'acciaieria ereditata dall'Unione Sovietica che fu immagini di militari feriti che necessitano di cure e che dal canale Telegram stanno facendo il giro del mondo. Insieme a loro sottoterra, secondo Petro Andriushenko, consigliere del sindaco ucraino di Mariupol, da settimane in esilio vi sarebbe ancora parte delle unità dei fanti di marina ed un centinaio di civili al contrario di quanto annunciato ieri. Ma la presenza o meno di persone comuni per i russi non fa molta differenza e l'assedio prosegue, anche sventolando una bandiera ucraina di fronte ad una telecamera dell'esercito di Mosca. Oltre l'acciaieria c'è la notte di Odessa, raggiunta da quattro missili in più zone del suo distretto dal ponte Zetoka, sino a pochi giorni fa strategico per rifornimenti e movimenti di persone colpito per la quarta volta, sino ad obiettivi che presumibilmente non avevano alcun legame con la guerra tra questi anche un centro commerciale. Oltre Odessa c'è Kharkiv, riconquistata dalle truppe di Zelensky dopo l'arrivo di rifornimenti d'armi dall'Occidente europeo e americano. I segni delle battaglie recenti sono un po' ovunque, tanti i morti rimasti sul terreno, non recuperati dalle unità russe, in fuga e ritrovati dagli ucraini in strada, in case abbandonate, persino in discariche. Oltre Kharkiv c'è poi Izium, dove scavando tra le macerie della guerra sono stati recuperati corpi senza vita di non meno di 44 persone. E poi c'è il Donbass, dove soldati russi e filorussi sarebbero arrivati sino ai confini delle autoproclamate repubbliche di Danesk e Lugansk. Notizia che attende conferme perché la battaglia per il controllo del Donbass dovrebbe e potrebbe essere il punto di svolta di questa guerra e non solo per Mosca. Ora siamo più forti, ripete in queste ore il ministro della difesa ucraino Kulieba e questo, come dicevamo, grazie all'arrivo di nuove armi. Se riuscissimo a vincere questa battaglia, dichiara Kulieba al Financial Times, potremo puntare alla riconquista dell'intero paese senza accontentarci di tornare alle posizioni che l'Ucraina occupava prima del 24 febbraio, giorno d'inizio dell'invasione russa. Qualcosa poi si muove sul campo settentrionale per esattezza in Bielorussia, dove Minsk sta riposizionando tre unità di forze speciali in risposta ai 20.000 soldati ucraini che Kiev ha avvicinato al confine tra i due paesi, mettendo secondo i bielorussi, praticamente alleati di Mosca, a rischio la loro sicurezza nazionale. Del conflitto parlano infine il generale Scott Barrier, direttore dei servizi di intelligence militare, e Avril Hines, capo dell'Agenzia di sicurezza nazionale americana. Per il primo in Ucraina non sta vincendo nessuno, c'è stallo quasi totale. Ora bisognerà aspettare e vedere segnali di una soluzione prossima della guerra, dice Barrier, non ce ne sono. Mentre secondo l'Aenz... Gli obiettivi militari a breve termine sono gli oblast di Donetsk e di Lugansk, per creare una zona a cuscinetto, e poi anche a sud e a ovest del Donbass, per distruggere le forze meglio equipaggiate dell'Ucraina che stanno combattendo nella parte orientale. Consolidare e controllare il ponte continentale che la Russia ha stabilito dalla Crimea al Donbass, occupare Kherson e controllare le risorse idriche dalla Crimea. Vediamo anche indicazioni che le forze armate russe vogliono estendere il ponte continentale alla Trasnistria. Le forze armate russe saranno capaci di raggiungere questi obiettivi nei prossimi mesi. Il trend attuale porterà probabilmente Putin a ricorrere a mezzi più drastici, come la legge marziale o ulteriori obiettivi militari. Crediamo che Mosca continui ad utilizzare la retorica nucleare come deterrente per far sì che gli Stati Uniti e l'Occidente non aiutino l'Ucraina e gli alleati NATO non aiutino l'Ucraina, e magari ne approvino l'annessione. Se gli Stati Uniti continueranno ad ignorare questi segnali e queste minacce, allora Mosca potrebbe organizzare un'ulteriore esercitazione nucleare anche con i sottomarini. Ma come si diceva, come si diceva anche dal primo titolo, c'è un fatto che può avere un'importanza primaria, perché da domani il gas che transita da una parte ben precisa proprio del territorio ucraino verso l'Europa occidentale sarà bloccato. Si tratta del punto di ingresso di Sokranivka, al confine tra Russia e Ucraina. Perché? Perché le autorità ucraine hanno detto che non siamo in condizione di far funzionare l'impianto per la presenza delle forze occupanti. Da quella parte passa un terzo del metano russo che arriva in Unione Europea. Il gas russo torna ad essere al centro delle preoccupazioni europee dopo la notizia diffusa da Fonte Ucraina. Da uno dei due punti chiave di ingresso verso l'Europa si fermeranno i rifornimenti da domani, poiché le forze di occupazione interrompono le operazioni. Il transito del gas non potrà più passare dal punto di Sokranivka, verrà reindirizzato verso Suza, sostengono gli ucraini. Non è tecnicamente possibile, risponde Gazprom, che però sostiene che rispetterà i suoi impegni verso l'Europa. Intanto l'Unione Europea ha un compito non da poco, convincere il più putiniano tra i leader europei, l'ungherese Viktor Orban, a non bloccare con il suo veto la sesta trancia di sanzioni contro Mosca, quelle che vanno a toccare il petrolio russo. La mediazione è stata affidata ieri alla visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, oggi alla telefonata del Presidente francese, nonché Presidente di turno dell'Unione Emmanuel Macron. Per ora Budapest non ha alcuna intenzione di accettare non solo il divieto di importo del greggio russo, ma persino il taglio. Orban nei giorni scorsi lo ha definito una bomba atomica sull'economia maggiara e non lo hanno convinto nemmeno le cosiddette proroghe offerte da Bruxelles, che farebbero slittare l'obbligo non solo per l'Ungheria ma anche per la Slovacchia al 2025, mentre per la Repubblica cieca a metà 2024. Sul tavolo Bruxelles ha messo i propri soldi, gli stessi che con la mano destra vorrebbe tagliare ad Orban per la sua svolta autocratica, con la mano sinistra potrebbe ridarglieli attraverso i fondi di compensazione. Budapest li dovrebbe usare per investire e rendersi indipendente dal greggio russo attraverso le rinnovabili, ma anche attraverso gasdotti ed oleodotti che riorientino il traffico energetico in ingresso non più da Mosca ma da altri paesi dell'Unione. Il tutto farà parte del pacchetto Repower EU che la Commissione presenterà il 18 maggio. Le sanzioni però dovrebbero essere approvate prima, come chiede a gran voce l'Ucraina, significa entro questa settimana o al massimo all'inizio della prossima. Nell'incontro di ieri tra von der Leyen e Orban sono stati fatti progressi, ma serva ancora del lavoro, hanno ammesso dalla Commissione, lavoro che ha continuato oggi il Presidente Macron per finalizzare le garanzie necessarie per le condizioni di approvvigionamento petrolifero dell'Ungheria, la quale, ha spiegato l'attivissimo Presidente francese che oggi ha sentito anche i cinesi, può contare sullo spirito di solidarietà degli altri Stati europei. Andiamo sul campo anche questa sera con Francesca Mannocchi. Gli scantinati di Saltivka sono diventati comunità all'interno della comunità più grande dell'estremità orientale di Kharkiv, a circa 30 chilometri dal confine russo. La maggioranza delle persone qui ha sempre visto i russi come vicini di casa, amichevoli, dice Tatiana, mentre scende con noi nello scantinato dove vive da due mesi e mezzo. Avevo amici e persino una famiglia in Russia, non li ho mai odiati, almeno fino a due mesi fa. La maggior parte delle persone che vivevano qui è stata evacuata, ma alcune decine rimangono, non hanno un posto dove andare o si sentono più sicuri nei semi interrati. Ogni mattina mi sveglio e guardo fuori per vedere se le case sono ancora in piedi. È solo così che capiamo quello che succede intorno a noi. Nelle ultime settimane gli ucraini hanno respinto le forze russe nella regione di Kharkiv. I bombardamenti sono diminuiti in città, ma Saltivka rimane un quartiere pericoloso e in gran parte disabitato. Molti edifici sono carbonizzati. Le forze armate ucraine hanno affermato che le truppe hanno riconquistato i villaggi e questo potrebbe segnare un cambiamento nello slancio della guerra e mettere a repentaglio l'avanzata principale dei russi. Il contrattacco potrebbe segnare una nuova fase della guerra con l'Ucraina che ora passa all'offensiva dopo settimane in cui la Russia ha organizzato un massiccio assalto che le truppe ucraine stanno per lo più respingendo. Intanto dai paesi liberati continuano a uscire storie di abusi e sparizioni. Qui a Malaya Roan questa donna conferma le voci degli abusi sulla ragazza sedicenne che sarebbe stata portata via dai soldati russi, abusata, stuprata e poi riconsegnata alla famiglia con la testa rasata. Oggi vivono in Norvegia, lei e sua madre. A pochi chilometri da qui vive anche Luzmilla con suo marito Sasha. Sono loro a raccontare che nei primi giorni dell'invasione i soldati russi hanno portato via decine di giovani, hanno lasciato qui gli anziani, dice, ma hanno riempito camion e bus dei nostri giovani e da allora, due mesi fa, non sappiamo dove siano finiti. In corso alla Casa Bianca il colloquio tra Biden e Draghi. Si ha notizia dei primi scambi, ma sentiamo Alessandra Sardoni. Visto dal presidente americano un colloquio carico di aspettative per la linea scelta dall'Italia sulla guerra in Ucraina per l'atlantismo rivendicato da Mario Draghi fin dal discorso della fiducia ormai più di un anno fa e rafforzato dalle dichiarazioni del Quirinale. Visto da Mario Draghi un appuntamento chiave, non senza qualche difficoltà politica interna, vedi il viatico polemico arrivato da Conte e Salvini e rispetto al quale il premier non intende fare concessioni. Abilità diplomatiche sono richieste tuttavia, anche guardando al versante europeo. Un'ora di colloquio, secondo le previsioni, nello studio vale con dichiarazioni oggi, prima del colloquio, una conferenza stampa di Draghi domani all'ambasciata italiana. Flusso delle armi, partita delle sanzioni, Biden chiederà rassicurazioni all'Italia, impegno a lavorare per tenere unita l'Europa e spostarla sempre più su un inesprimento dell'embargo su petrolio e gas. Non piace oltreoceano la riluttanza dell'Europa e il no di Orban che trascina e in parte copre le esitazioni degli altri. Draghi ragguaglierà sullo stato dei nuovi contratti con i paesi diversi dalla Russia, nello sforzo di rendere l'Italia mai più così dipendente dal gas russo. Non è un caso che con il Presidente del Consiglio nella missione ci sia l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, che sarà premiato domani con Draghi in una serata all'Atlantic Council a riprova dell'importanza della trasferta americana, che avrà ripercussioni anche sul fronte interno. Draghi non ha voluto riferire prima alle camere, come richiesto dal Movimento 5 Stelle. I decreti per l'invio delle armi sono autorizzati dal primo, con voto quasi unanime, e il Premier non vuole riaprire la discussione. Quanto alla missione a Washington, che ha preparato personalmente, riferirà in seguito nel Question Time del 19 maggio, evitando la formula delle comunicazioni del Governo, che prevede risoluzioni e voti, e non necessaria tecnicamente. Allora, del colloquio si sa qualcosa di Fonte Draghi. Le nostre nazioni sono unite in modo forte, ha detto al Presidente americano. In Italia la gente però si chiede cosa bisogna fare. Ecco le immagini che stiamo vedendo proprio in questo momento, le prime che ci arrivano. Sentiamo anche l'audio. E al G20, e anche a Roma, e al G7 pure ci incontreremo domenica. Ci siamo incontrati domenica e ci sarà anche un incontro per quanto riguarda il Covid, quindi sicuramente occasioni per incontrarsi. Siete uno degli alleati più stretti che abbiamo avuti e anche in questa crisi contro questa aggressione brutale. La cooperazione con voi a volte comporta dei costi. Abbiamo visto cosa sta succedendo in Ucraina, è veramente incredibile. Grazie mille. Vorrei dire che è un grande piacere per me essere qui con lei oggi. Grazie per avermi invitato. Grazie per la vostra magnifica accoglienza. Due Paesi, il legame tra i nostri due Paesi è sempre stato molto forte. Senz'altro questa guerra in Ucraina ha reso ancora più forte questo legame. Se Putin ha mai pensato che sarebbe riuscito a dividerci, beh, ha fallito. Su questo non c'è dubbio. Stiamo insieme, condanniamo insieme l'invasione dell'Ucraina. Abbiamo optato per le sanzioni contro la Russia e stiamo aiutando l'Ucraina, come ha chiesto il Presidente Zelensky. E sono qui per dirle che in Italia e in Europa ora la gente vuole una fine, vuole che venga messa la parola fine a questi massacri, a questa violenza che è in corso. La gente pensa a cosa si può fare per arrivare alla pace. Sicuramente dobbiamo usare tutti i canali diretti e indiretti che abbiamo, la comunicazione, ma questo è abbastanza. Cosa possiamo fare? La gente crede nella possibilità magari di arrivare a un cessato il fuoco e portare avanti dei negoziati. Questa è la situazione attuale. Credo che dobbiamo pensare attentamente a come affrontare questa situazione. Andremo avanti, io e lei, a lavorare sull'energia, sulla sicurezza, sulla sicurezza alimentare, soprattutto, che è un'altra questione pressante di cui parleremo. Parleremo sul da farsi. L'altra cosa che vorrei dire brevemente, non so se poi ne parleremo più avanti, ciò che è successo in Ucraina porterà un grande cambiamento nell'Unione Europea. Siamo sempre stati uniti, ora saremo ancora più uniti. E so che posso contare sul suo sostegno come vero amico dell'Europa e dell'Italia. Grazie, Joe. Vorrei aggiungere una cosa. Credo che un'Unione Europea forte è nell'interesse degli Stati Uniti. Se parliamo della competizione, è qualcosa di positivo. Stavo scherzando sul fatto che cerca la formazione dell'Unione Europea e il commercio, come cambia tra un paese e l'altro. Non c'è bisogno di passare attraverso i checkpoint, come è cambiata la situazione. Ed è un bene per tutti. La cosa che ho apprezzato maggiormente di lei è che i nostri sforzi, fin dall'inizio, per portare la Nato e l'Unione Europea insieme, è qualcosa di importante. È qualcosa sulla quale abbiamo lavorato tutti. Comunque mi fa estremamente piacere averla qui. Fate attenzione quando è uscito, non fatevi male. Ecco, siamo al momento delle foto opportunity, come si dice, no? Le foto, come vedete, penso che non ci siano, ma aspettiamo un attimo altre dichiarazioni, ma mi pare di no. Quindi al di là delle formalità, la richiesta da parte italiana che si ponga fine ai massacri, che si cerchi la strada di un negoziato di pace. Sì, direi che finisce qui. Allora, andiamo a vedere come però in Italia, come sempre, la situazione è seria, ma non solo. Andiamo. Il caso Petrocelli è chiuso. La Presidente del Senato, Casellati, ha sciolto la Commissione Esteri guidata dal contestato Presidente. Decisione arrivata dopo il parere favorevole della Giunta per il regolamento di Palazzo Madama. La Giunta ha constatato che la Commissione Esteri non era più in grado di lavorare dopo che 20 dei 22 componenti si erano dimessi contro la permanenza alla guida dell'organismo di un Presidente dichiaratamente filorusso. Dimissione di massa come unico modo per mandare via Petrocelli, che di dimettersi invece non aveva alcuna intenzione. Subito dopo, la Presidente del Senato, Casellati, ha ufficializzato lo scioglimento chiedendo ai gruppi di indicare entro venerdì i nuovi componenti della Commissione Esteri che poi eleggeranno il futuro Presidente. Si chiude così il caso esploso con il voto contrario di Petrocelli al decreto sull'invio delle armi all'Ucraina che ne ha provocato l'espulsione dai Cinque Stelle e alimentato con le sue dichiarazioni sul conflitto decisamente fuorilinea rispetto alla maggioranza, come il tweet sul 25 aprile con evidenziata la Zeta, simbolo dell'esercito russo in Ucraina. Dichiarazioni per tutte le altre forze incompatibili con il suo ruolo istituzionale. Una farsa, una vendetta politica, la reazione del diretto interessato che annuncia un possibile ricorso alla Corte Costituzionale e considera legittimo il suo no alle armi all'Ucraina. Del resto il tema sta creando più di un malumore nel movimento con i distingui di Conte sulle armi da difesa e da offesa che stanno provocando tensioni nella maggioranza e soprattutto con gli alleati del PD. Tensioni confermate nelle quasi due ore di faccia a faccia oggi tra Conte e Letta che hanno comunque confermato l'intenzione di proseguire nell'alleanza. Dall'altra parte il centrodestra era atteso alla prova del voto sul presidenzialismo alla Camera. Giorgia Meloni, prima di intervenire in aula, aveva presentato il voto come l'occasione per dimostrare, al di là delle incomprensioni e delle difficoltà, che il centrodestra sulle grandi questioni di merito alla fine si ritrova sempre compatto. Il testo di Fratelli d'Italia, che puntava ad introdurre nel nostro ordinamento l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non ha però superato il fuoco di sbarramento degli emendamenti soppressivi votati da PD e 5 Stelle, ma ad affossarlo hanno contribuito in parte anche le assenze in Forza Italia e Lega. Brutta, bruttissima storia che riguarda il raduno degli Alpini a Rimini. Tre ragazze si sono fatte avanti. Domani pomeriggio incontreranno gli avvocati dell'associazione Non Una di Meno di Rimini per raccontare e circoscrivere nei dettagli quello che hanno vissuto lo scorso fine settimana in città durante la dunata degli Alpini e capire se ci sono gli estremi per denunciare alle forze dell'ordine, anche in forma collettiva, quegli apprezzamenti volgari, le battute pesanti, i gesti e gli approcci di natura sessuale subiti. Ci sono testimonianze di ragazze che lavoravano nei bar e negli alberghi, donne che mentre passeggiavano per le strade piene di Alpini in festa venivano importunate, anche palpeggiate. Più di 160 finora le segnalazioni via social, alcune in forma anonima, ma appunto nessuna denuncia formale. 80.000 penne nere hanno sfilato. La città romagnola è invasa da 450.000 persone per festeggiare il loro 93.000 anniversario dopo due anni di Covid. L'Associazione Nazionale Alpini prende ovviamente le distanze da queste presunte molesti e comportamenti incivili che non appartengono alle tradizioni e ai valori di questo corpo che tanto ha fatto per il paese e continua a fare. Ma l'Associazione parla anche di centinaia di giovani che approfittano della situazione spacciandosi per Alpini con un cappello in testa comprato sulle bancarelle. A molestare le donne non sarebbero stati però solo i più giovani, ma anche uomini più avanti con l'età, in un contesto collettivo dove di certo non è mancato da bere. Se le denunce coinvolgeranno alcuni nostri associati ovviamente prenderemo dei provvedimenti. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini che domenica rappresenta lo sfilamento degli Alpini ha definito gravissimi comportamenti raccontati da alcune donne. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti ma che non possono e non devono essere sottovalutati e che sarebbero all'opposto dei valori degli Alpini di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni. Nessuna tolleranza dunque per il ministro che dice anche che è sbagliato fare generalizzazioni. L'Andrangheta a Roma, vediamo. In centro mai e mai ostentando il potere dopo i guai giudiziari passati col celebre Caffè de Paris di Via Veneto che gli fu tolto nel 2009 la strategia di Vincenzo Alvaro e dei suoi era cambiata. Il boss di Sinopoli nel Regino puntava al basso profilo alle periferie della capitale quei palazzoni dove ci si nasconde meglio o almeno così si crede. È tra Prennestina, Tuscolana, Nomentana, Prima Valle che questi indranghetisti saliti a Roma una ventina d'anni fa hanno costruito e puntellato il loro impero comprando e intestando a prestanome bar e ristoranti, panifici e pasticcerie, pescherie sale da biliardo, negozi di parrucchiere autoconcessionarie. Vincenzo Alvaro gestiva il potere economico-finanziario mentre a quello per così dire militare pensava al parigrado Antonio Carzo del comune Aspro Montano di Cosoleto che dopo 13 anni di galera parte di quale al 41 bis nel 2014 aveva raggiunto a Roma il sodale. Noi a Roma siamo una propaggine di là sotto dicevano al telefono gli indagati e si chiama Propaggine l'imponente operazione della DIA guidata dalla DDA di Roma in coordinamento investigativo con quella di Reggio Calabria. Un repulistico ha messo fine a una diarchia avviata nella capitale otto anni fa con la benedizione della casa madre e proseguita esercitando una propria capacità di intimidazione e una forte autonomia nella gestione delle attività illecite. I 77 arrestati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa favoreggiamento, estorsione, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio, traffico di droga, detenzione di armi comuni da sparo e da guerra. Tra i destinatari dell'ordinanza anche un commercialista e un dipendente di banca che avrebbero piegato le loro competenze alle necessità della banda e il sindaco di Cosoleto Antonino Gioffre accusato di scambio politico elettorale assieme ad Antonio Carzo. Allora, dopo di noi a otto e mezzo gli ospiti di Ligruber sono Beppe Severgnini, Giovanni Di Lorenzo, Andrea Scanzi e Orietta Moscatelli. Non conosciamo gli ospiti di martedì, ma comunque c'è Giovanni Floris. Ci fermiamo. Fine le borse brevissimamente. Milano, come vedete, ha chiuso in positivo, ha rimbalzato più 1,04% l'ultimo indice Fuzzi. Mib è contrastata, Wall Street in questo momento, il Dow Jones vicino alla parità, sta avvicinandosi, meno 0,03% ma il Nasdaq invece più 1,50%. È tutto. Gruber, Florex, ci vediamo se volete alle 17 di domani, se no domani sera alle 20. Buonasera.